la nevicata più grande degli ultimi 30 anni probabilmente a norcia sto tentando di uscire dal centro storico credo che siamo ormai sopra il metro il metro di neve vediamo un po' qui piccola discesina intanto la neve che ci frena siamo da porta narenula non sono solo e questo mi mette di buon umore vado a prendere missione prendere le ultime pale da neve disponibili per far uscire la famiglia da casa prenotate alle sette e mezzo e mi ha detto il negoziante che erano tra le ultime rimaste in situazione possiamo dire che assolutamente qui c'è qualcuno fermo e box a dare una mano ci sono già persone ad aiutarlo possiamo di certo dire che non succedeva da anni una cosa del genere cambiamenti climatici probabilmente sì passiamo da un estremo all'altro dall'estate più calda degli ultimi decenni all'inverno più nevoso degli ultimi decenni quindi Grazie a tutti. Adesso sono in viale della stazione, direzione rivenditore di pale da neve. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.